In edicola, dal 3 settembre 2021, le cronache di Excalibur, in un'edizione destinata a diventare un grande classico. Il mito di re Artù affonda le sue radici nell'affascinante cultura celtica che ha dominato l'Europa migliaia di anni fa. Con il passare dei secoli, la sua storia andò arricchendosi di nuove avventure fino a costituirsi nel più importante ciclo narrativo del Medioevo. Una collezione esclusiva edita dalla casa editrice RPA che ha raccolto e ordinato tutte le fonti del ciclo arturiano e le ha proposte in versioni letterarie di grande suggestione. Le cronache di Excalibur è una collana di libri in edicola dal 3 settembre 2021 con la prima uscita al prezzo di lancio di 2,99 euro. Le prime quattro uscite hanno periodicità quattordicinale, successivamente la periodicità diventa settimanale. Per ricevere tutti i volumi giorni sarà possibile sottoscrivere un abbonamento sul sito www.cronachediescalibur.it dove potrete anche scoprire sconti e regali esclusivi inclusi nell'offerta. Sottotitoli e revisione a cura di QTSS